eccoci buongiorno combattenti delle dune di sabbia potenti soldati che sconfiggono il vento contrario mangiatori all'inverosimile dormitori in luoghi improbabili buongiorno parte così con una faccia un po addormentata il forte ventura bike trail portami a cena buongiorno guarda che figata KOMERDA COMERDA COPERDA La peperonata La peperonata La peperonata Ciao ragazzi avanti a tutte come sempre ciao